Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Ancora una giornata instabile, la perturbazione si allontana e la pressione atmosferica torna lentamente ad aumentare. Il dettaglio di giovedì 28 marzo. Sul Veneto al mattino cielo coperto, con piogge piuttosto diffuse ovunque. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in diminuzione, fenomeni via via in esaurimento con anche delle schiarite soleggiate qua e là. Quota neve intorno ai 1000-1300 metri. Temperature in contenuta variazione, minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese tra 9 e 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli-Venezia-Giulia. Anche qui avremo precipitazioni dappertutto, in genere moderate e anche abbondanti sulla fascia orientale della regione. Col passare delle ore, piogge intermittenti, poi nella notte miglioramento. Temperature minime sui 6-10 gradi, massime intorno agli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino-Alto Adige, dove sarà possibile qualche rovescio nel corso della giornata alternato a brevi tratti soleggiati. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime intorno ai 12. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. Atreviso e Montebelluna. Lolato. Soluzioni per star bene. Grazie per la visione.